e ancora Clarkson, figurati se non tira, figurati se non tira Ciao a tutti ragazzi, sono Alfranz, siete su Ambier Revival Zone ieri il sondaggio è stato vinto da Utah Jazz, Los Angeles Clippers i primi ad ovest contro i terzi, big match, quindi se non avete nulla in contrario io partirei adesso eccoci qua ragazzi, iniziamo, Rudy Gobert, Serge Ibaka, dovrebbero esserci tutti tranne Paul George ma non mi pare di vedere Kawhi, e che cacchio però vabbè, ce la facciamo andare bene lo stesso, c'è Patrick Beverly da quello che vedo non c'è Kawhi Leonard, non c'è Paul George l'ultima partita dei Clippers che abbiamo seguito qui insieme contro i Miami Heat senza George, Leonard e Beverly vittoria Clippers contro i Miami Heat, qua sono avanti di 5 contro gli Utah Jazz che continuano a sorprendere in questa stagione continuano a vincere, a convincere sono straprimi ad ovest con la vittoria in questa partita, se vittoria sarà provano di fatto la fuga per la vittoria per citare un noto film con Pelé e Sylvester Stallone qua grandissima schiacciata di Ivica Zubac qua abbiamo un Pokémon contro l'altro perché da una parte c'è Zubac, dall'altra c'è Coffey e quindi via, la buttiamo nel nerd questo giro gioca Reggie Jackson, preso, ripreso, anzi all'ultimo nella campagna acquisti dell'off season dei Los Angeles Clippers comunque si vedono, si vede la differenza una netta differenza tra i Clippers dello scorso anno e i Clippers di quest'anno più coinvolti i compagni meno isolamenti per Leonard e per Paul George tutti mettono punti, tutti sono coinvolti e questo, che se ne dica mentre ah ok, sbaglia Clarkson dopo il quarantello ormai tira sempre Clarkson cioè non c'è proprio via di mezzo tira e basta e comunque è il reale segreto di questa squadra perché uno che ti esce alla panchina e non ha paura di prendersi tutti questi tiri vuol dire che comunque sono tutti in fiducia qua Gobert continua a segnare e Nebo si attenta al career high di Gobert beh dai, almeno sarebbe qualcosa di cui parlare comunque, per il momento Jazz 34, Clippers 29, quindi più 5 una partita che tutto sommato si lascia guardare per ora bellissimo canestro di Terrence Mann altra piacevole sorpresa in realtà mentre arriva il ferro ma no, è pettinatura oroscena vabbè qua l'Williams per Zubac altro all'Eup e Clippers avanti di 4 quindi Clippers che anche senza Paul George e Kawhi Leonard comunque riescono a tenersi in linea di galleggiamento e anzi ad essere avanti già 9 tiri per Clarkson se andate a rivedervi un vecchio video che feci sui sesti uomini ragazzi dissi Clarkson può uscire dalla panchina e metterti 30 con 10 tiri ammesso che sia possibile e poi la partita dopo può uscire dalla panchina e metterti 7 con 25 tiri purtroppo è prendere o lasciare questo giocatore per il momento ragazzi prendiamo tutta la vita perché dà un impatto alla panchina che è qualcosa di mai visto probabilmente partita in equilibrio verso il finale del secondo quarto mentre questo qui ragazzi Donovan Mitchell col tiro dal midrange che è tanto bistrattato in regular season ma che in realtà poi ai playoff fa tutta la differenza di questo mondo mentre qua tutta la differenza la vediamo tra Sergei Bacca e Montrez Arrel ovvero la capacità del congolese di allargare il campo più di quanto non possa fare Trez che in questi clippers era a livello di spaziature qualcosa di da rivedere se non altro rispetto all'anno scorso comunque clippers ancora avanti qua Gobert grandissima difesa ma Reggie Jackson è più bravo ancora Mitchell col midrange e questo tiro ragazzi farà tutta la differenza del mondo nei playoff vi avviso mentre inizia il terzo periodo con i clippers avanti di 5 gancio sinistro di Rudy Gobert ancora Marcus Morris con la palla che si arrampica sul ferro i clippers che continuano a essere avanti di 4 in questo caso e Lou Williams porta a più 6 la squadra di Los Angeles che comunque zitta zitta e nonostante l'assenza tanto gran canesto di Bogdanovic in ogni caso non si sa effettivamente se questi infortuni siano reali o se sia solamente load management mascherato perché sappiamo tutti che ci sono multe quest'anno per load management se i giocatori non vengono schierati pur non avendo nulla altro gran canestro di Mitchell che riporta il jazz a meno uno per cui secondo me tanti saranno infortuni mascherati cioè o meglio load management mascherato da infortunio mentre anche Royce O'Neill sembra un discreto giocatore all'interno di questo sistema aiuta che mette la testa avanti ma Marcus Morris riporta più uno i Clippers quindi partita equilibrata per ora nonostante le assenze ci va più che bene gran giocata di Lou Williams che nel gioco a due con chiunque è un fenomeno ora Clarkson rallenta e appoggia più uno jazz sorpassi e controsorpassi ma jazz che sono già in bonus e quindi possibilità di tanti liberi già da metà del terzo periodo anche se qui liberi non ne vediamo perché gli highlights li tagliano però prima più uno Clippers poi più uno jazz la partita continua ad avere un cambio di padrone almeno per quanto riguarda il punteggio bellissima finta flyby da pollo non ho visto di chi ma ancora Zubac che a raschiare nella spazzatura della partita lui c'è sempre bellissima palla di Terrence Mann per coffee ragazzi Terrence Mann che giocatore è praticamente il sosia di Tyrese Maxey guardandolo così che bel giocatore qua ancora partita in equilibrio alla fine del terzo periodo Rudy Gobert sbaglia due volte l'appoggio e Joe Ingalls va per il più quattro alla fine del terzo quarto abbiamo una partita signori abbiamo una partita anche se qui Utah con Gobert va a schiacciare per il più sei ma insomma più sei Utah Jazz all'inizio del quarto periodo con i Clippers senza le loro stelle e insomma un bel segnale per i Clippers almeno per ora anche se qui poi Joe Ingalls porta i Jazz sul più dieci Jazz che all'inizio del quarto periodo tentano l'allungo decisivo sempre col sorriso questi Jazz i Clippers non segnano più e ancora Joe Ingalls col fallo ragazzi questo è veramente il perno della squadra almeno offensivamente perché sa fare tutto ma non vuole fare tutto cioè lascia fare agli altri ma poi quando conta ragazzi lui i punti li sa mettere i Clippers provano a riavvicinarsi meno nove ma che highlight era quello non lo so Clarkson tira ancora e segna ancora più tredici e qua Utah tenta veramente la fuga mentre grande stoppata di Rudy Gobert che contro i centri che non allargano il campo ragazzi va a nozze da una parte stoppa dall'altra schiaccia più 15 Utah Jazz quarto periodo parzialone dei Jazz e ancora Clarkson figurati se non tira figurati se non tira più 18 ragazzi si è partiti dal più 6 a inizio quarto periodo siamo a più 18 qua Beverly batte un colpo ma mi sa che è un po' troppo tardi Patrick ancora Williams ma che cacchio di highlight sono Williams porta palla rimbalzo offensivo di Royce O'Neill manca solo che Utah Jazz prendano rimbalzi offensivi a catinelle già sbagliano poco da 3 figurati se poi vanno anche rimbalzo offensivo diventano imbattibili più 22 finisce la partita equilibrio per tre per tre quarti e dopo Utah che scappa e vince agilmente di 18 10 di Ibaka 15 di Reggie Jackson 16 di Lou Williams 13 di Coffey ha giocato anche Meffiondu tra l'altro l'unico con il plus minus positivo si vede garbage time comanda dall'altra parte altra grande prestazione di Rudy Gobert 23 20 rimbalzi 24 di Donovan Mitchell 14 di Joe Ingalls tutti pesanti 12 di Royce O'Neill 18 ovviamente 23 tiri di Clarkson 23 tiri di Jordan Clarkson alla grande ragazzi allora la reaction finisce qui c'è andata bene per tre quarti dopodiché nel quarto periodo Utah Jazz che sono scappati purtroppo ci siamo beccati l'assenza di Kawhi Leonard non prevista Utah che vola sul 24 5 5 25 5 fatemi controllare un secondo perché qua non so mai se i record del video che vedo a video sono aggiornati oppure no si sono aggiornati quindi Utah Jazz 24 vinte 5 perse record incredibile Clippers 21 9 ma senza le stelle in totale scioltezza che sia l'ora di vedere Clippers Lakers come finale ad ovest chissà se gli Utah Jazz lo lasceranno ho finito qui la reaction noi ci vediamo alle 6 di oggi con la storia con la ripresa della serie legata agli Hall of Famers ho fatto un remastered di quasi tutti i video penso li gradirete molto di più dei precedenti per il resto ci vediamo nei prossimi giorni vi ricordo domani venerdì è la data scelta per la live qui su youtube e ragazzi che dire buona giornata io mi bevo il caffè che ho già bevuto ma me ne faccio un altro perché ho dormito poco e poi si parte a lavorare ciao ciao